Eccoci qui, siamo tornati nel corso di montaggio video con Adobe Premiere eravamo rimasti nella lezione precedente esattamente in questo punto avevamo visto la visualizzazione del materiale multimediale ad icona quindi quando importiamo il materiale sostanzialmente in Premiere questo è quello che vediamo, un po' di oggetti anche di anteprima passandoci con il mouse possiamo già vedere qualcosina in anteprima però come vi ho anticipato nella scorsa lezione questo non è l'unico modo di visualizzare il materiale multimediale in Adobe Premiere esiste anche un secondo modo di visualizzare il materiale la modalità così chiamata ad elenco, lista, ok? Se preferite che cosa vuol dire? Vuol dire che, ve lo faccio vedere subito premendo un tastino che è questo che fa comparire la scritta visualizzazione a elenco vedete? Premendo questo tastino a fianco del tastino evidenziato in azzurro che è la visualizzazione invece a icone che abbiamo visto nella scorsa lezione premendo questo tastino la nostra visualizzazione cambia e esattamente i materiali, gli stessi materiali che avevamo importato nella puntata precedente vengono questa volta visualizzati non più come delle icone di anteprima ma come un elenco, come una lista perché può essere utile visualizzare il materiale in questa modalità? innanzitutto perché potete espandere le cartelle che avete creato con un click vedete che c'è una freccettina sulla sinistra della cartella del raccoglitore questa freccettina ci permette di espandere i raccoglitori e quindi o di contrarli in questo caso non c'è nulla quindi c'è poco da fare ma se noi volessimo importare del materiale dentro una cartella vale quello che abbiamo detto nella lezione precedente selezioniamo il materiale e lo trasciniamo nella cartella in cui vogliamo far confluire i nostri oggetti ecco questa cartella ora è popolata e questa linguetta ci permette di espandere con un click tutto il materiale quindi vedere tutto quello che abbiamo senza dover andare in una cartella e in un'altra è comoda questa visualizzazione poi perché guardate abbiamo tutto un insieme di informazioni che prima non avevamo nella visualizzazione a icona noi potevamo soltanto vedere il nome degli oggetti la durata degli oggetti, quanti elementi erano racchiusi nel contenitore per esempio nella modalità invece di visualizzazione ad elenco noi abbiamo tutte informazioni che per un montatore video sono fondamentali ok quindi abbiamo la frequenza dei fotogrammi notate che io per allargare mi metto esattamente tra una etichetta e l'altra vedete e allargo quindi dicevo ho la frequenza dei fotogrammi ho l'inizio dell'oggetto multimediale quindi il time code di inizio, la fine dell'oggetto multimediale quindi il time code di fine dell'oggetto multimediale e tantissimi altri parametri molti di più di quelli che potete vedere qui c'è la possibilità di andare avanti riallargo un attimino così avete un attimino più un senso di insieme ecco c'è questa diciamo maniglia che ci permette di andare avanti dicevo ci sono tante altre informazioni queste informazioni prendono il nome di metadati i metadati sono sostanzialmente delle informazioni chiuse, racchiuse, iscritte dentro a un file che descrivono in qualche modo il file stesso non mi addentro nel concetto di metadati perché è un argomento che potrebbe prendere un intero corso ok? come vi ho detto nella lezione precedente o nelle lezioni precedenti quando importiamo il nostro materiale video dobbiamo in qualche modo organizzarlo e nell'organizzare il nostro materiale c'è tutta una branchia del montaggio video che è il logging ovvero il selezionare il materiale prima ancora che arrivi nelle mani del montatore quindi il montatore in un mondo che funziona bene ma non è sempre così purtroppo teoricamente dovrebbe ricevere un materiale già etichettato in maniera tale da poter capire subito al volo cosa serve e cosa non serve tutte queste informazioni vengono registrate nei metadati e questi metadati noi in Premiere li possiamo visualizzare nella modalità lista ok? sembra complicato in realtà non lo è la pratica poi vi insegnerà che è tutto molto più semplice potete organizzare il vostro materiale dando un ordine per esempio l'ordine del nome ok? se volete organizzare il materiale secondo come viene chiamato il file potete cliccare nell'etichetta in alto e vedete che i file vengono in qualche modo organizzati stessa cosa per il numero di fotogrammi stessa cosa per il time code e via dicendo quindi la modalità di visualizzazione ad elenco è molto utile proprio per poter vedere delle informazioni che nell'altra modalità quella icona non avremo modo di visualizzare prima di chiudere voglio farvi notare una cosa molto importante abbiamo detto che nella modalità di visualizzazione ad icona noi possiamo distinguere praticamente a colpo d'occhio il tipo di file che stiamo maneggiando eravamo qui dentro questa è una fotografia e lo capiamo in un batter d'occhio possiamo capire che questo è un file audio e lo capiamo a colpo d'occhio ma nella modalità invece ad elenco come facciamo a capire con quali oggetti stiamo lavorando? è semplicissimo la premiere pensa a tutto guardate all'estrema sinistra del nostro pannello ci sono queste etichette anche queste vengono chiamate etichette e hanno un colore ogni colore in premiere di default ogni colore corrisponde ad un tipo di oggetto multimediale diverso per esempio questo colore azzurrino corrisponde ai video il colore verde più chiaro corrisponde ad una sequenza un verde un po' più sbiadito corrisponde a un audio questo violetto o rosa non so voi come lo visualizzate sui vostri monitor è una fotografia, un'immagine e un oggetto arancione è una cartella non solo, se guardate bene le icone ingrandisco ancora di più, esageriamo tanto non si paga questa cosa, possiamo farlo le icone hanno un disegno vedete questa pellicola con una forma d'onda questo sicuramente è un file multimediale che ha sia un video che un audio lasciate perdere il fatto che l'estensione è MOV potrebbe anche non avere estensione oppure potrebbe essere un file MOV che ha soltanto il video e non all'audio lo capite appunto da queste icone questa è una sequenza lo capiamo assolutamente da questo disegno così come questa forma d'onda ci fa capire che questo qui è un file audio stessa cosa per le immagini vedete questo disegno ci fa capire che questa è una fotografia ipotizziamo che noi volessimo rinominarli questi oggetti come si fa a rinominare questi oggetti per esempio noi non vogliamo chiamare la sequenza sequenza 04 vogliamo chiamarla che ne so sequenza principale oppure master come si fa a rinominare in premier basta cliccare una volta con il tasto sinistro del mouse dopo averlo selezionato ipotizziamo che vogliamo rinominare la sequenza clicchiamo sopra la sequenza e riclicchiamo una seconda volta non doppio clic un clic separato da un altro e a questo punto noi possiamo scrivere per esempio master ok e dare i enter con la tastiera possiamo fare la stessa cosa anche con la modalità aspettate che mi metto a posto ok con la modalità a icona se io seleziono un oggetto clicco sopra clicco sopra il nome posso rinominarlo una cosa importante noi nel rinominare gli oggetti dentro a premier non stiamo toccando minimamente i file sul nostro computer ok ricordo quello che ho detto due lezioni fa quando lavorate in premier e importate del materiale create semplicemente un collegamento simbolico ok vuol dire che le operazioni che fate dentro a premier salvo salvo alcuni casi di norma non vanno a modificare i vostri file originali che cosa vuol dire? vuol dire come ho già spiegato che se io cancello questo file selezionandolo e premendo canc sulla tastiera non lo sto effettivamente cancellando lo sto semplicemente eliminando da premier ma il file in sé continua ad esistere la stessa cosa vale per gli oggetti se io modifico il nome di una clip video non sto modificando il nome del file presente sul nostro computer sto modificando semplicemente il nome di questa clip dentro a premier questo è molto importante perché non è vero il contrario se voi rinominate invece i file sul vostro computer o li cancellate fate saltare il collegamento e automaticamente premier vi darà che i vostri file non sono in linea non vi preoccupate torneremo a parlare dei file non in linea in un tutorial dedicato perché è un argomento che può far impazzire molte persone per adesso mi fermo qui perché la voce comincia ad andare via nella prossima puntata finalmente finalmente cominceremo a creare la nostra timeline che già ho creato in questa lezione ma torneremo un attimino indietro e creeremo una timeline da zero e vedremo a cosa stare attenti quando creiamo una timeline da zero e poi continueremo di puntata in puntata a vedere come lavorare con premier se volete iscrivetevi al mio canale youtube mi fa piacere e poi voi in questo modo sarete sempre aggiornati sulle novità di questo canale quindi iscrivetevi subito e venite a trovarmi sul sito internet www.fabioambrosi.it sito internet in cui sono presenti anche gli articoli delle lezioni così che possiate in qualche modo leggere quello che ci siamo detti in questo in questo spazio commentate questi video se pensate di avere qualcosa da dire da da integrare queste nostre conversazioni se volete correggere perché magari posso aver detto qualche fesseria commentate o anche chiedete se avete domande cercherò di rispondervi nel minor tempo possibile cercherò di essere il più chiaro possibile nel caso se molte cose che ho detto non sono chiare farò un'altra lezione magari più mirata ok per adesso grazie per avermi seguito se volete se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo capitolo ciao ciao